Vittoria ineccepibile del Lauretum, che sul terreno amico della Ciavatti fa suo lo scontro diretto per la salvezza. A farne le spese il Daniele Cericola, che paga lo scotto dell'espulsione di Contini dopo mezz'ora di gioco. L'inferiorità numerica per gran parte della gara non giustifica la scialba prova dei Montesilvanesi, apparsi nervosi sulle gambe ed incapaci di bloccare uno strepitoso Rosselli, autore della tripletta. Dopo soli tre minuti dal fischio d'inizio, il Lauretum ha già l'occasione per passare. De Angelis intercetta il limite dell'aria, ma calcia le stelle da buona posizione. Risponde il Cericola su punizione, bravo di Quinzio a distendersi e smanacciare. Nel capovolgimento di fronte i padroni di casa trovano il penalty. Pasta viene atterrato in aria, primo giallo per Contini. Dal dischetto Rosselli realizza di prepotenza. La partita cambia volto. Ancora Contini, protagonista in negativo al 36esimo. Suo il fallo di frustrazione che li costa un altro cartellino. La decisione arbitrale si trasforma inevitabilmente in espulsione. Cambia dunque lo schieramento difensivo. Tocca a Di Blasio coprire le falle, ma non viene supportato a dovere dai compagni di reparto. L'azione del 2-0 è emblematica. Cross pennellato di Romanelli per l'indisturbato Rosselli che non ha alcun problema di insaccare di testa. Due minuti più tardi, occasionissima capitata prima a Caruso, poi a Di Fazio. Ormai il risultato è compromesso. Nella ripresa gli ospiti tentano una reazione nervosa, peggiorando però la situazione. Si rivede quindi Rosselli in apertura di ripresa, con Baldin che tenta di imitarlo su punizione. Poi è il turno di Di Clemente. Dopo l'errore imperdonabile, sottoporta prova a farsi perdonare con una bella iniziativa. Ma oggi la parte del Leone è sicuramente del capitano Biancazzurro. In pieno recupero va a segno per la terza volta. A volte è vero che certi giocatori fanno la differenza. In quattro settimane che sono qui non riuscivamo ad ottenerla. Voi un po' per la procura universale, un po' per dei meriti nostri. Adesso penso che la squadra stia crescendo e quindi dobbiamo continuare su questi livelli qua. Sicuramente le mie squadre sono squadre che difficilmente mollano le partite. Quindi stiamo crescendo sul piano l'intensità, ce ne andremo a giocare fino alla fine contro tutti. Peccato perché era uno scontro diretto, potevamo rimetterci in gioco. Adesso proseguiamo per la nostra strada. Noi siamo una squadra che comunque, pure se retrocediamo alla fine, non è che ci incide più di tanto. La categoria era bella, cerchiamo di mantenerla fino alla fine. Lotteremo fino alla fine, vediamo un po' alla fine, tireremo le somme insomma. Grazie. Grazie.